buonasera a tutti bentornati sul mio canale allora questa sera una serata caldissima perché si parla dell'argomento già preannunciato in una live precedente con joseph che molti di voi hanno già seguito cioè della famosa conferenza tenuta a bolzano mercoledì scorso in cui burkhart ha analizzato e portato all'evidenza quello che ha scoperto analizzando dieci autopsie di persone morte dopo due settimane massimo dal vaccino allora questa sera abbiamo come avete avrete visto dalla locandina sia joseph che barbara e anche sandro ve li faccio entrare subito buonasera tutti quanti ben arrivati buonasera buonasera a tutti buonasera a tutti allora siccome so che joseph ha un po da fare e quindi lo facciamo parlare per primo in modo che se poi è impegnato alla possibilità di staccarsi e noi possiamo continuare joseph allora grazie mille per essere di nuovo con noi e senti sei rimasto soddisfatto come ti sembra che sia andata questo evento sì sì sono molto contento perché è andato molto bene erano presenti duecento persone poca polla la sala era piena e abbiamo dovuto mandare via delle persone e già lunedì due giorni prima era tutto prenotato per già e ce n'erano anche tantissimi dottori farmacisti personale della sanità e comunque si è visto che è un tema che le persone ci interessi tanto